E' una giornata cruciale sul fronte calcio scommesse. A mezzanotte infatti scade il termine per la presentazione del rigorso in appello da parte della Procura federale. L'organo che rappresenta l'accusa nel processo sportivo non ha presentato il rituale preannuncio di reclamo, ma ha comunque tempo fino a questa sera per appellare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale federale nazionale. Sul fronte opposto invece coloro che sono stati sanzionati dall'organo giudicante di primo grado della giustizia sportiva hanno presentato regolare preannuncio di reclamo, recuperando quindi qualche giorno in più di tempo per presentare il ricorso rispetto ai sette stabiliti dal codice. Presentando il preannuncio infatti i sette giorni devono trascorrere a partire dalla ricezione degli atti. Ha guerrito più di tutti e sicuramente l'avvocato Dario Vannetiello, legale di Francesco Millesi, che si è mostrato fiducioso e visto il venir meno di gran parte del castello accusatorio. Essendo stati prosciolti infatti tutti gli imbutati per omessa denuncia e Maurizio Peccarisi, che secondo l'accusa sarebbe stato corrotto dall'ex capitano Biancoverde, non è chiaro a questo punto chi sarebbe stato il destinatario del tentativo di combina effettuato da Francesco Millesi. Ricorrerà sicuramente anche Mattia Grassani, nuovo legale di Armando Izzo. La linea adottata da Antonio De Renzis non è piaciuta al Genoa, proprietario del cartellino di Izzo, che ha deciso di cambiare strategia difensiva non essendo contento della squalifica combinata al difensore originario di Scampia. Sulla questione è rimasto invece molto prudente come sempre l'avvocato Edoardo Chiacchio, che aspetterà le mosse della Procura federale prima di studiare la linea da seguire in accordo con Walter Taccone e Michele Gubitosa. Ultime ore di ansia dunque, poi comincerà il secondo tempo di una delle partite più importanti della stagione.